Favorire attraverso lo sport e recupero del benessere personale di donne con o senza figli che hanno vissuto particolari esperienze legate al fenomeno della violenza di genere. E' questa la missione del progetto Un'Oasi di Sport, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che vede il Circolo Canottieri di Agropoli al fianco dell'Oasi Fiume Alento, della Cilento MTB, della Yin Yang Studi Arti Marziali e della Cooperativa Sociale Castrum per la realizzazione delle attività seguite in prima linea dalla responsabile scientifica Monia Monzo e che godono del patrocinio gratuito dei piani sociali di zona S7 di Roccadaspide ed S8 di Vallo della Lucania. Nell'ambito di tale progettualità si sta svolgendo presso l'Oasi Fiume Alento la settimana del benessere che vede la partecipazione anche di donne con o senza figli provenienti da altre regioni d'Italia. Guidate dal personale specializzato sia nelle pratiche sportive che sulla tematica della violenza di genere si stanno cimentando insieme ai loro figli in più discipline quali mountain bike, kayak e arti marziali. Questo è un progetto molto importante perché tende a restituire dei momenti di benessere a chi purtroppo ha vissuto un'esperienza sicuramente drammatica e di sofferenza nell'ambito soprattutto del contesto familiare e quindi punta soprattutto a rinforzare, a recuperare e rinforzare quelle che sono le relazioni madre-figli che sono state appunto provate dalla violenza. Però è un progetto aperto anche soltanto a donne che hanno vissuto l'esperienza, questa esperienza e quindi diciamo è la violenza di genere che fa da collante rispetto al gruppo che poi prende parte al progetto. Il progetto nel suo complesso prevede delle attività che si svolgono in un periodo abbastanza lungo parliamo di sei mesi di attività con una cadenza quindicinale in cui abbiamo due gruppi di donne in questo caso del territorio che vengono qui a fare attività sportive quali kayak, arti marziali, mountain bike e altre attività che noi proponiamo in genere qui all'Oasi Fiumalento. Tra l'altro tra le peculiarità del progetto c'è anche il fatto che spesso le donne che partecipano a questo percorso hanno la possibilità di essere in realtà coinvolti in attività insieme ai nostri ospiti dell'Oasi che quindi nemmeno si accorgono che ci sono delle persone che hanno in qualche maniera che stanno partecipando al progetto. Quindi siamo stati attenti anche a questi aspetti insomma. Il progetto ci inorgoglisce molto anche perché ne sono stati finanziati solo 25 su tutto il territorio nazionale su 500 ammessi. Quindi sarà davvero una bella soddisfazione. Questo è un ulteriore tassello che si aggiunge veramente alla pletora di attività sociali che noi teniamo. È importantissimo perché per noi è un motivo di orgoglio partecipare e contribuire al benessere di queste persone. Oggi in particolare abbiamo delle associazioni di donne vittime di violenza di genere e quindi quella che è una mission ulteriore della nostra associazione e del nostro circolo poter dare un contributo attivo a queste persone per cercare di rendere migliore il loro benessere è qualcosa che ci rende felici.